Chiaramente abbiamo fatto amicizia, purtroppo io non parlo inglese, lui non parla italiano, ci siamo dati delle gran pacche sulle spalle, abbiamo mangiato insieme, abbiamo recitato insieme, ci abbracciamo, stiamo bene, grandi sorrisi, insomma, il rapporto l'abbiamo creato e lui adesso parla un po' di più l'italiano. Io non ho imparato l'inglese, ma lui con noi ha cominciato a parlare di più l'italiano, poi mi ha raccontato delle cose che gli piace fare il meccanico, io anch'io che ho fatto il perito meccanico, negato, però alla fine ho fatto l'attore, che era la cosa che potevo fare, però abbiamo parlato di torno, delle cose, il trappano, bisogna fare delle cose. E quindi, vedi, sono dei ragazzi che vengono qua, che hanno voglia di lavorare, che vogliono impegnarsi, che non ha senso, cioè tutto quello che gli hanno detto attorno a questa storia non ha senso, sono persone che vogliono vivere normalmente come noi e una femmini è fantastico insomma. Grazie Grazie Grazie